Siringhe abbandonate in una juola in pieno centro storico nel cuore di una Vicenza che sta sempre peggio. Una situazione di degrado che pare non abbia fine. Chi le ha trovate ha subito scattato foto diffuse sui social network. Tanto che la titolare del chiosco gestito sulla spiaggetta in zona San Biagio è subito corsa a tirarle via personalmente come racconta il nostro microfono precisando che le siringhe erano state abbandonate al di fuori dell'area di sua competenza. La prima cosa che ho fatto è stata quella di recarmi nell'area e togliere le sigringhe metterle in protezione anche per tutelare quello che sarebbe stato in un secondo momento l'AIM che sarebbe venuto a raccogliere l'immondizia e le ho buttate via. La seconda cosa che ho fatto è stato denunciare il fatto alla polizia locale. Quindi io penso che queste siano le dinamiche. Costruire una rete e non solo pubblicare delle foto su Facebook perché quello non ci porta a niente. Certo è che i vicentini sono molto preoccupati. C'è di tutto e di più diciamo. C'è di tutto e sarà sempre peggio quello discorso. Sarà sempre peggio. Bisognerebbe curare di più appunto la polizia, il controllo, l'ordine. Più che altro è una situazione di degrado in pieno centro. Sì, sì sì ha ragione. Certamente che siamo tutti preoccupati. Lì ci sono anche dei bambini. Non è una cosa neanche bella di vedere. È veramente un disastro. L'idea dell'ultima spiaggia è quella di riqualificare e far rivivere in maniera sana la zona. E chi la gestisce dimostra molta amarezza di fronte a questi episodi di degrado. Queste persone che si rovinano la vita, nel momento in cui si rovinano la vita loro, possono fare quello che vogliono. Però nel momento in cui tu abbandoni le siringhe con degli aghi all'insù, sei un criminale. Questa cosa deve essere chiara.